70 volontari con 18 mezzi operativi per testare le capacità di comunicazione, comando e controllo del sistema di protezione civile affrontando vari scenari di natura idrogeologica. Domenica 12 novembre è stato infatti il giorno di Prometheus, l'esercitazione di protezione civile organizzata dal comune di Arezzo che è visto coinvolte oltre alle strutture comunali quattro associazioni di protezione civile operanti sul territorio in materia di soccorso tecnico in emergenza. L'esercitazione si è svolta lungo la strada che da Gragnone-Portalignano a nord dell'abitato di Antria, sul canale della Chiana presso la chiusa dei Monaci ed infine sul ponte di Prata Antico. Le operazioni sono state dirette dal centro operativo comunale. I scenari ipotizzati sono stati l'attivazione di squadre di volontariato secondo le procedure regionali, l'allestimento di un'area ammassamento volontari, il monitoraggio e presidio di frane sulla viabilità comunale ed infine l'esercitazione di pompaggio mediante idrovole. Hanno preso parte l'esercitazione, la Croce Rossa, l'associazione La Racchetta, la Misericordia ed infine la sezione di Arezzo dell'Associazione Nazionale Carabinieri.